Buon pomeriggio, benvenuti e benvenuti a una nuova edizione del Tg6. Approvato l'emendamento Castaldi, la Commissione Giustizia del Senato ha dato l'ok alla proroga per salvare fino al 2024 i tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto. Luca Pulzoni. I tribunali abruzzesi di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto tirano una boccata d'ossigeno e incassano un'ulteriore proroga fino al 14 settembre 2024. Il via libera è arrivato dalla Commissione Giustizia del Senato che ha approvato nella serata di ieri l'emendamento Castaldi, firmato dai senatori di tutte le forze politiche che avevano appoggiato la battaglia contro la soppressione dei presidi di giustizia. Nonostante il parere contrario del governo con il ministro Cartabia che aveva respinto l'ipotesi proroga a causa della mancanza di coperture economiche, la Commissione ha dato il via libera all'emendamento atteso ora all'esame del Senato e infine della Camera. Nonostante il Ministero abbia mantenuto la contrarietà, il Parlamento ha fatto sentire la sua voce, il rinvio a settembre 2024, un'importante boccata d'ossigeno per la giustizia, per i territori, per la qualità del servizio, il lavoro di squadra ha pagato, ha dichiarato soddisfatta la deputata del Partito Democratico, Stefania Pezzopane. Abbiamo dimostrato di essere stati capaci di fare squadra, oltre le appartenenze politiche, sotto l'impulso dei sindaci e del territorio, ha aggiunto Camillo D'Alessandro, di Italia Viva. Abbiamo sempre creduto in questo risultato e la battaglia parlamentare che abbiamo portato avanti ha dato finalmente un risultato cui tutti speravamo. È il commento di Carmela Grippa del Movimento 5 Stelle. L'approvazione dell'emendamento a salvaguardia dei tribunali minori rappresenta un grande risultato che mi riempie di soddisfazione. Ci tengo a ringraziare i parlamentari coinvolti che si sono espressi all'unanimità il comitato dei sindaci, i presidenti delle province abruzzesi, gli ordini degli avvocati e tutti coloro che si sono spesi per questa causa. Da domani però rimbocchiamoci le maniche e avanti tutta verso la proroga, ha espresso soddisfatto il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio. E ora la cronaca non ce l'ha fatta l'uomo tedesco di 51 anni che era finito in gravi condizioni all'ospedale di Pescara in seguito ad un incidente con un ultraleggero caduto nel pomeriggio di ieri sull'avvio di superficie di Corropoli in provincia di Teramo. L'uomo è morto ieri, poco prima delle 19, in pronto soccorso, arrivato in condizioni disperate, non si è mai ripreso. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. All'ospedale di Teramo è invece ricoverato in gravi condizioni un uomo connazionale di 57 anni che era a bordo del velivolo con lui. Degli accertamenti si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica. Il velivolo, un biposto, era decollato intorno alle 11 di ieri dall'aviosuperficie di Calatabiano a Catania, ma in fase di atterraggio presso l'aviosuperficie di Corropoli, a causa di problemi tecnici, si è schiantato violentemente al suolo. L'incidente si è verificato intorno alle 14.30 e sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Nereto con un'autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio, che hanno provveduto a liberare i due uomini rimasti incastrati nelle lamiere. Nell'impatto i due hanno riportato importanti fratture, traumi e dopo essere stati stabilizzati dal personale del 118 sono stati trasferiti in heliambulanza negli ospedali di Teramo e Pescara, ma per uno dei due non c'è stato nulla da fare. A Montesilvano uno sconosciuto ha aggredito una donna, mentre questa stava per uscire dal palazzo dove abita per andare al lavoro. L'uomo l'ha trascinata per i capelli nel locale contatori e l'ha seviziata per circa mezz'ora con alcol e una siringa. Provvidenziale l'intervento di un condomino. Sembra la trama di un film horror, ma purtroppo è tutto vero. Mattina da incubo, ieri per una donna di 51 anni, residente nel centro di Montesilvano. Come ogni giorno, intorno alle 7, la donna stava uscendo di casa per andare al lavoro. Nell'androne del palazzo però ha notato una bottiglietta di plastica che impediva al portone di chiudersi. Chinatasi per raccoglierla, la donna è stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto, coperto da mascherina e cappello, che l'ha trascinata nel locale dei contatori del palazzo. In quello sgabuzzino l'ha immobilizzata, le ha tagliato alcune ciocche di capelli con delle forbici, le ha messo del nastro adesivo sulla bocca e una busta in testa. Voglio giocare con te, avrebbe ripetuto più volte l'aggressore, mentre pungeva la donna con una siringa sterile. L'uomo ha poi trovato dell'alcol nella borsetta della malcapitata, lo ha usato per cospargere le gambe della sua vittima, minacciandola con un accendino. Le sevizie si sono protratte per circa mezz'ora, fino a quando la presenza di un condomino per le scale del palazzo ha messo in fuga l'aggressore, ponendo fine alla traumatica esperienza. Lanciato l'allarme, la donna è stata trasportata in ospedale a Pescara in stato di shock, per poi essere dimessa con una prognosi di 21 giorni. Ora è caccia all'uomo. I carabinieri stanno setacciando le immagini delle telecamere della zona per identificare colui che ha osato pensare che una donna possa essere il suo giocattolo, seviziandola impietosamente. Stando alla descrizione della vittima, l'aggressore sarebbe un italiano di mezza età. Ancora cronaca, è stata agganciata dal locomotore diesel della Sangritana, dalla parte destra è trascinata per oltre 200 metri l'autochia su cui viaggiava una famiglia di Lanciano, il papà di 27 anni, la madre di 22 e il figlioletto di 8 mesi che era sul seggiolone posteriore. L'incidente ferroviario è avvenuto dopo le 17 in territorio di Fossacesia, incontrata alla selva, dove il treno merci che trasportava i furgoni Ducato della Sevel stava raggiungendo lo scalomerci della stazione di Fossacesia. L'indagine della procura di Lanciano è coordinata dal PM Serena Rossi. Complessivamente le condizioni dei feriti non sono preoccupanti, frattura gli arti inferiori per la madre che era sul lato dell'impatto, ma era vigile al momento dei soccorsi, lesioni lievi per il padre e il bimbo, trasportati a Chieti per dei controlli. Sul posto carabinieri della compagnia di Ortona, polizia e vigili del fuoco di Lanciano che hanno dovuto estrarre dalle lamiere accartocciate la donna. La famiglia lancianese stava raggiungendo Torino di Sangro dopo aver avuto notizia di un lutto in famiglia. Nel tratto ferroviario che interessa all'agro della Vallisangro non c'è il passaggio a livello, ma dai primi riscontri ha funzionato l'allarme acustico e visivo. Il conducente del locomotore, come da prassi, viaggiava a vista in quella tratta sui 30 km orari e appena notato che l'auto non si era fermata, ha attivato il freno d'emergenza senza esito. Tecnici e manutentori specializzati della capogruppo TUA sono giunti per le verifiche, il controllo della scatola nera del treno e del sistema di segnalazioni SOA posto sull'attraversamento ferroviario, molto utilizzato anche dagli agricoltori. Cambiamo argomento, dai prossimi giorni sarà possibile a Chieti effettuare le vaccinazioni al Palacolle dell'Ara. Lo assicura il sindaco Diego Ferrara dopo gli inconvenienti accaduti al Palacus. Paolo Rezzetti. Dal 3 agosto le vaccinazioni a Chieti si effettueranno al Palacus Forte di Colle dell'Ara. Sindaco ormai è ufficiale, nelle prossime ore ci sarà l'ultimo sopralluogo e poi ci sarà il via libera. Questa mattina stessa, ieri hanno lavorato i tecnici per la messa in funzione dell'impianto di areazione e di condizionamento dell'aria. Questa mattina andrò io personalmente con i tecnici per l'ultimo sopralluogo e poi dovremo ovviamente parlare, metterci d'accordo con i tecnici della ASL per lo spostamento delle suppellettili e degli impianti, dei box, dal Palauda al Palazzetto di Colle dell'Ara. È una struttura funzionante, ha funzionato benissimo durante la campagna di screening di quest'inverno, ottenendo tutte le autorizzazioni da parte dei nostri tecnici e di quelli della ASL, eviteremo di fare un doppio passaggio, quello del foro Boario, che comunque sarebbe dovuto essere stato riconsegnato alla Camera di Commercio ad ottobre e quindi avremmo dovuto poi fare, ripeto, il secondo passaggio a Colle dell'Ara. Siccome il Palazzetto di Colle dell'Ara è di proprietà del Comune ed essendo l'emergenza sanitaria prioritaria su tutto, abbiamo individuato, ma già quest'inverno con la campagna di screening, il luogo ideale per continuare le vaccinazioni che purtroppo con l'aumento che stiamo avendo delle positività si suppone non finirà a breve. Tenga conto che in questa ultima settimana abbiamo avuto 10 casi in tutta la provincia, quindi niente di eccezionale e siamo a un tasso di incidenza di 18 casi su 100 mila abitanti, tenendo conto che il livello di criticità comincia quando si supera 50 casi su 100 mila abitanti, quindi siamo ben lontani dal livello di criticità. Tenga presente che oltre le fasce di età avanzate e le persone vulnerabili si stanno vaccinando molti giovani e nella fascia di età tra i 18 e i 30 anni siamo arrivati al 50% e oltre di vaccini. Attualmente noi abbiamo il 50% di vaccinati con una dose e più del 60% di vaccinati con la seconda dose, quindi la campagna vaccinale nella nostra provincia, nella nostra città sta andando molto bene. Restiamo a Chieti, è stato approvato il finanziamento Cipe per il progetto presentato dal Comune relativo all'intervento di recupero con aumento della dotazione di servizi per 55 alloggi sociali, è prevista la riqualificazione, il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico. Assessore, una bella notizia per l'edilizia popolare della città di Chieti perché grazie all'arrivo di fondi Cipe per 1.800.000 euro ci sarà una riqualificazione proprio delle case popolari? Sì, ci sarà la riqualificazione di 55 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, credo che questo è il primo intervento dopo 50 anni di risorse pubbliche che vengono messe a disposizione per garantire il diritto alla casa, ma una casa dignitosa, quindi siamo soddisfatti. Un arrivo di fondi da parte del Cipe che ovviamente permetterà questi lavori, ma in prospettiva voi vi aspettate che possano arrivare altri fondi per fare altri lavori? Ma noi come stiamo facendo da quando si è insediata la Giunta Ferrara, ci stiamo ficcando in qualsiasi canale di finanziamento, infatti questi soldi arrivano grazie alla progettualità del nostro Comune che ha consentito di accedere a questo canale di finanziamento, se ce ne saranno negli altri parteciperemo a tutti gli avvisi pubblici che verranno pubblicati. Per chi è di Chieti è a metà di Madonna degli Angeli, parliamo di Via della Cace, Via delle Robinie, cioè un quartiere popolare storico di Chieti, credo che riuscirà a un bel complesso residenziale con spazi comuni, spazi per bambini, spazi per anziani, per favorire anche la socializzazione, oltre che il diritto alla casa in quanto tale. Quando partiranno i lavori? Mi auguro che i lavori potranno partire entro la fine di quest'anno, però adesso aspettiamo, intanto godiamoci il fatto che siamo riusciti ad accedere a questo finanziamento, poi ci sarà la fase della progettazione e credo che nel giro di due o tre anni l'intervento sarà definitivo. A Pescara la lista civica Mare Pescara, guidata da Piacentino Dostilio, torna a rivendicare il simbolo contestandone l'utilizzo del consigliere comunale Bernardino Fiorilli che si è recentemente apparentato con l'Udc. Dostilio, lei qualche mese fa aveva detto che Amare Pescara era fuori dalla maggioranza al comune di Pescara. Nelle ultime ore c'è stata una federazione tra Amare Pescara, rappresentata in consiglio comunale da Bernardino Fiorilli e l'Udc. Lei, alla luce di quanto è accaduto nelle ultime ore, oggi torna a fare delle precisazioni importanti. Ribadisco per la terza volta, e sia l'ultima volta, Amare Pescara è uscita dal consiglio comunale a ottobre del 2020, ribadita a gennaio e lo ribadiamo per la terza volta. Questo accordo, la federazione Udc e Amare Pescara, è un accordo che la lista civica Amare Pescara non conferma, non condivide, non c'è nessun accordo, è un'iniziativa personale del consigliere comunale Fiorilli, a cui ricordo che sì, è stato eletto in Amare Pescara, ma è un indipendente non iscritto nella stessa lista civica. Quindi Amare Pescara non può essere utilizzata da persone che stanno fuori dalla lista stessa. Chiarimenti immediati da parte del consigliere Fiorilli, che ha dichiarato sulla stamba, è stata detta separata del passaggio suo all'Udc. Allora, io chiedo al consigliere comunale che dichiare il suo passaggio immediato all'Udc, oppure si dimetta da consigliere comunale di Amare Pescara. Amare Pescara non è più rappresentata in consiglio comunale. Per ribadire un'altra volta che Amare Pescara non fa alcuna federazione con partiti politici nazionali. Chiamiamo a raccolta le varie associazioni locali, culturali, come è stato fatto qualche mese fa. Qualche associazione locale già ha preso condatti con noi di Amare Pescara, per fare un gruppo unico per qualsiasi evenienza, non solo dal punto di vista politico, ma per tutto ciò che può riguardare, interessare e servire alla città di Pescara e al suo popolo. Una regata per sensibilizzare i cittadini della provincia di Teramo sul tema della violenza di genere. Si terrà questa domenica tra Martinsicuro e Silvi. Una gara tra imbarcazioni e remi contro la violenza sulle donne. È l'iniziativa promossa dalla Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo e dal Centro Antiviolenza La Fenice, che si terrà domenica 1 agosto lungo la costa teramana tra Martinsicuro e Silvi. L'obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità sull'importante tema della violenza di genere. Domenica 1 agosto alle ore 10 in contemporanea da Martinsicuro a Silvi si svolgerà una vogata simbolica contro la violenza di genere. In ogni punto di partenza che ci sarà nei vari comuni sarà piazzato un gazebo e sarà distribuito materiale informativo sulle strutture antiviolenza provinciali che sono il Centro Antiviolenza La Fenice e la Casa Rifugio Casa Maia. Quest'anno poi abbiamo una testimonial di eccezione, la professoressa Gigliola Stafilani, una matematica, la prima donna italiana ad aver ottenuto una cattedra di matematica pura al prestigiosissimo MIT del Massachusetts, seconda donna al mondo. Bene, lei sarà con noi per rafforzare questo modello di donna sapiente e coraggiosa. La mia storia è un po' inusuale, secondo me il messaggio che io posso dare è il fatto che molte volte ci sono violenze che vengono fatte sulle donne che sono molto psicologiche, magari dettate dalle tradizioni locali e di cui uno non si rende conto esplicitamente che però segnano moltissimo la via di queste ragazze. Al mio tempo, ormai da molti anni che ho lasciato l'Italia e anche molti anni che ho cominciato la scuola, non avevo nemmeno messo in questione il fatto che le donne non potessero raggiungere obiettivi a molto alti. Una ragione per la quale questo succedeva è anche perché non avevo i cosiddetti role models, quindi non conoscevo persone, donne in particolare che stessero o ricoprissero cariche importanti. Il messaggio che voglio dare è che abbiamo raggiunto moltissima indipendenza, bisogna assolutamente seguire i propri sogni, questa è una cosa importantissima, e trovare partners che ci permettono di fare tale cosa. Inaugurata a Pescara, lungo la Riviera Nord, la prima ecospiaggia con Giardino Dunale, il progetto è nato da un'intesa tra Comune e Fater. Nasce a Pescara la prima ecospiaggia, un grande progetto voluto fortemente dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Fater, Sindaco? Sì, e sono molto orgoglioso che Pescara esprima una spiaggia libera che è meravigliosa. questa immagine è un'immagine dai Caraibi perché Pescara può offrire questo e lo offre su una spiaggia libera comunale a disposizione di tutti i cittadini, un progetto sviluppato insieme alla Fater, un progetto che ha anche un aspetto culturale e di insegnamento perché questa è la prima spiaggia ecosostenibile, un'ecospiaggia inclusiva perché sarà gestita da un'associazione che cura la disabilità e soprattutto con questa spiaggia vorremmo insegnare come deve essere il rapporto tra il cittadino e la spiaggia e il mare, quindi tutte cose positive che abbiamo sviluppato in questi mesi di lockdown e di pandemia per presentarci in un modo meraviglioso perché questa spiaggia è al centro di Pescara, è l'immagine della nostra città dove c'era degrado assoluto perché tutti ricordano che cos'era questa spiaggia negli ultimi anni, oggi è rinata una stella e lo dico per i pescaresi che sanno perfettamente che qui c'era lo stabilimento, è nata una stella. Ecospiaggia a Pescara nella stagione della bandiera blu tra l'altro? Sì, credo che questo sia un altro esempio forte di come si possono gestire le spiagge e di come può essere trattato il mare in maniera sostenibile perché oramai noi dobbiamo andare verso la sostenibilità ambientale su tutte le questioni e noi a Pescara lo stiamo facendo e credo che quello che mettiamo in campo lo dimostri ampiamente, quindi proseguiremo su questa strada, quest'anno abbiamo avuto la bandiera blu, adesso abbiamo anche l'ecospiaggia, stiamo prendendo complimenti da tutti, nei prossimi giorni verrà anche legambiente con la goletta verde e sono certo che confermerà tutte le cose positive che ci sono su Pescara in questo periodo dal punto di vista ambientale e siamo contenti del lavoro fatto perché poi lo vediamo concretamente. E ora lo sport, parliamo di calcio, prime impressioni per il calciatore Davide Zappella sulla sua nuova esperienza a Pescara. Il classe 98 arriva dall'Empoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Il giocatore che ha già esordito in Serie B parla dei metodi di allenamento dei mister Auteri e degli obiettivi della squadra. Ascoltiamolo. L'impatto iniziale è stato molto positivo sia a livello societario, a livello di minister, staff, tutto e compagni di squadra ovviamente, sono arrivato in una piazza importante, forse non dico magari la più importante ma una delle tra le più importanti di Lega Pro e l'impatto è stato buono. Il motivo per il quale ho detto di sì è abbastanza facile ovviamente perché Pescara è una realtà molto importante, è sempre stata una realtà molto importante che oggi si trova in Lega Pro però sappiamo tutti che si merita palcoscenici più importanti di questo. Il fatto che mi ha spinto a dire sì è appunto la piazza e soprattutto il volere della società che mi ha voluto fin da subito, fin dai primi giorni di mercato, anche qualche giorno prima forse avevo sentito qualche interessamento. La preparazione del mister se non si può dire che sia leggera, anzi forse è l'opposto, però è giusto perché sono delle idee a che lavoro paghi quindi di conseguenza ci consentirà di magari entrare in forma un pochetto dopo ma comunque quando entriamo in forma di essere più performanti sotto livello fisico rispetto alle altre squadre è molto tosta comunque. Sono terzino, quinto, più propenso alla fase offensiva che ha quella difensiva e quindi mi piace molto attaccare, molto crossare, fare questo tipo di gioco qui. Sono veloce e sono più offensivo che difensivo. Ha uno stimolo perché questo conferma appunto il valore della piazza e il valore della società nella quale sono, ne faccio parte adesso e sì ovviamente l'obiettivo è arrivare almeno a una categoria superiore sperando di arrivarci col Pescara. Di obiettivi non abbiamo ancora parlato, dovremo parlarne, ovviamente non sarà un obiettivo di dire salviamoci come ci si può aspettare proprio per la piazza e la società che è e ovviamente noi lavoriamo anche senza obiettivi per arrivare più in alto possibile e per cercare di portare il nome di Pescara e della città di Pescara più in alto rispetto a dove si trova ora. Presentato ufficialmente presso la sala stampa dello stadio Bonolis, Federico Guidi, il neo allenatore del Teramo Calcio. Guidi arriva in bianco rosso dopo la risoluzione del contratto che lo legava fino al 2023 alla Casertana. Ascoltiamo le prime parole del tecnico del diavolo. Colgo l'occasione per ringraziare la società del Teramo, il Presidente in primis perché non è da tutti avere una società, un Presidente che ti vuole fortemente, me e il mio staff e quindi non ci sono stati nessun tipo di problemi. Per me non sono stati giorni facili perché ho vissuto una situazione paradossale, surreale e non era scontato trovare una società, un Presidente che aveva la voglia, che ti voleva fortemente e che aveva la voglia e la forza di aspettarti. Quindi sono per me stati attestati di stima, di fiducia che con tutte le mie forze cercherò di ripagare con il lavoro, con la professionalità, con la serietà perché questi sono valori che non sono secondi a nessuno, anzi sono per noi un grande stimolo e fonte di motivazione. Coloro che sono rimasti sono giocatori che stimo e che secondo me possono dare tanto, sia in termini di qualità, di quantità, come valori umani proprio sul campo. Quindi sono consapevole che già questi 15-16 contrattizzati che abbiamo sono sicuramente una buona base per intraprendere e iniziare il nostro percorso. Sicuramente in termini proprio di allenamenti siamo leggermente indietro, però questo non deve essere nessun tipo di alibi. Tocca a noi, a me, al mio staff cercare di ridurre questo gap che poi si parla di una settimana, per cercarlo di ridurlo e per non farlo pesare a inizio stagione, ma questo è motivo di studio quotidiano con me e il mio staff per fare ciò che all'inizio stagione si possa essere pronti ad affrontare le partite. Sappiamo che abbiamo delle situazioni di giocatori che devono uscire, ve le ha già elencate il Presidente, lo sapete bene di Cianci, sapete bene di Santoro o di Diachite. Le situazioni poi sono, queste sono dinamiche che io in questo momento non mi interessa nemmeno entrare, se ne occupa la società, io intanto la mia concentrazione massima è per valutare bene quelli che abbiamo addosso e poi nel gruppo e poi fare le valutazioni perché devono arrivare dei calciatori funzionali a quelli che sono i nostri principi di gioco, le nostre idee. Il Termo ha sempre fatto campionati ambiziosi, questo ce lo impone la proprietà, ce lo impone una società storica perché è da poco che hanno fatto 108 anni, quindi è una società storica, sicuramente vogliamo ben figurare. Poi per dire quali possano essere quelli che saranno i veri obiettivi aspettiamo di arrivare a fine mercato, vediamo se ci sarà o non ci sarà la riforma, ma penso ne sa molto di più il mio Presidente piuttosto che io e poi sicuramente vogliamo fare una squadra ambiziosa, io perlomeno per i pochi giorni e per il poco tempo che sono stato a fianco del Presidente Iachini non ho mai visto il Presidente non essere ambizioso. Serie D partita ufficialmente, la nuova avventura di Luciano Bartolini come Presidente del Nereto Calcio, formazione rosso-blu che ritrova la Serie D dopo 23 anni. L'ex patron del Giulianova nel ringraziare la nuova città parla soprattutto di quello che è stato il recente passato in giallo-rosso. Stefano Recanati. Luciano Bartolini, parte questa nuova avventura, allora partiamo da questo, oggi finalmente si dà il via alla nuova avventura del Nereto in Serie D con Luciano Bartolini. Sì, oggi chiuderemo una parentesi, una storia bellissima che è durata 5 anni, fatta di vittorie, fatta di risultati importanti nella quarta serie e purtroppo finita male per delle situazioni extra calcistiche e ne inizia un'altra con tanto entusiasmo da parte della città, da parte dell'amministrazione e da parte del sottoscritto. E quali sono le ambizioni del nuovo Nereto allora in Serie D? Ma no, le ambizioni sono quelle di mantenere la categoria, perché per Nereto mantenere questa categoria già è un... E questa era la nostra ultima notizia, i servizi che avete visto sono su Youtube e sul sito www.tv6.it. L'informazione torna questa sera alle ore 19, grazie e buon pomeriggio. www.tv6.it.